Bentornati, allora oggi parliamo della memoria nella direzione dell'orchestra Perché ne parliamo? Perché al contrario di quello che succede a uno strumentista che il brano o lo sa memoria con tutte le note che comprende o avrà dei problemi durante l'esecuzione il direttore dell'orchestra, se vogliamo, può bleffare Ecco perché la puntata di oggi servirà, credo, a raccontarvi un paio di episodi che forse non sapete ma soprattutto a sfatare qualche mito che andremo a vedere insieme Allora cominciamo a chiederci perché dirigere a memoria? Nessuno se lo aspetta necessariamente, non è previsto da nessuna abitudine consolidata non è previsto da nessun contratto quindi perché fare un qualcosa che è palesemente un salto mortale senza rete? Perché se il direttore sbaglia qualcosa, esattamente come uno strumentista che sbaglia qualcosa nello suonare, ebbè insomma ci sono problemi, ci si ferma, ci sono entrate sbagliate sono grandi, grandi problemi Forse però la domanda più giusta che dovremmo farci non è tanto perché un direttore dirige a memoria ma per chi lo fa può darsi che un direttore dirige a memoria per se stesso per, come dire, avere la convinzione di padroneggiare davvero quel brano Forse sapete che Abbadu diceva che lui finché non sapeva dirige un pezzo di memoria non riteneva di averlo studiato abbastanza da questo punto di vista la cosa ha assolutamente un senso Un'altra, come dire, un'altra destinazione il per chi lo si fa, ma a volte lo si fa per il pubblico nella convinzione, spesso sbagliata che il pubblico vedendo dirigere a memoria come dire, tenga il direttore in maggior considerazione cosa non sbagliata in termini assoluti ma a me è successo diverse volte dirige interi concerti a memoria e poi parlando con qualcuno del pubblico scoprire che neanche se ne erano accorti che non avevo il leggio davanti cioè proprio perché non c'era neanche proprio quindi non solo lo spartito sul leggio proprio non c'era il leggio davanti insomma, quindi neanche se ne erano accorti quindi se la motivazione è farlo per il pubblico beh, insomma, diciamo che non è una motivazione abbastanza forte oppure per chi farlo ancora a volte il direttore lo fa per l'orchestra per gli orchestrali perché pensa e non del tutto a torto che l'orchestra lo avrà in maggior considerazione se lo vede padrone della partitura che sta dirigendo ora, al netto del fatto che l'orchestra per acquisire stima in un direttore l'acquisisce in ben altre maniere tramite la concertazione tramite il rapporto personale e non solo perché dirige con o senza lo spartito può darsi che una parte una minoritaria della stima che un direttore può avere da parte dell'orchestra possa essere determinata dal fatto di dirigere a memoria però qui bisogna fare molta attenzione perché l'orchestrale medio è un figlio di buona donna e se vuole metterti in difficoltà ci piega 10 secondi evidentemente e a volte qualcuno lo fa anche volutamente e soprattutto le prime prove a volte capita che gli orchestrali volutamente suonino dalle note sbagliate per vedere se il direttore se ne accorge e quindi se vengono pizzicati come dire al primo al primo colpo poi non lo fanno più se non vengono pizzicati al primo colpo lo rifanno una seconda una terza una quarta volta finché poi ovviamente il direttore potrebbe anche vincere il nobile per la pace ma non può far più niente per recuperare la stima dell'orchestra attenzione che però dirigere un concerto a memoria è una cosa ma ben altra cosa è dirigere la prova a memoria per cui se siete di quelli del pubblico che si impressionano e stimano un direttore orchestra perché dirige a memoria beh accertatevi che abbia fatto anche le prove a memoria prima di regalargli la vostra sempiterna stima e ammirazione perché alla fin fine il dirigere a memoria se hai studiato bene se hai concertato bene se hai provato bene alla fin fine cosa succede? il concerto non è altro che la riproposizione di quello che è stato prima studiato a casa dal direttore e poi provato in prova con l'orchestra quindi voglio dire non è altro che un ripetere che un reiterare quello che si è già provato per cui da questo punto di vista non è una cosa così come dire miracolosa dirigere a memoria altra cosa ovviamente è fare è fare le prove perché perché tu a casa soprattutto su un pezzo nuovo che non è mai diretto tu lo prendi lo studi lo giri lo rigiri ti fai le tue idee ti fai le tue idee di concertazione ti prepari già delle cose che già sai che dirai all'orchestra diciamo qui devo far suonare i scorni così qui devo fare attenzione all'impasto tra viole e clarinetti ti fai tutta tutta una tua serie di idee tutta una serie di cose che già sai che dirai all'orchestra ma ovviamente le possibilità che ci sono all'interno di un pezzo sono infinite ed è praticamente impossibile pensarle e prevederle veramente tutte se si fa a memoria ovviamente la prova se non si fa a memoria nessun problema ma se si fa a memoria mettiamo pure che tu il pezzo lo conosca tutto bene e se ti chiedono maestro ma in questa battuta è portato o è marcato? Urca e tu se non hai la partitura davanti è portato o è marcato allora se hai un po' di faccia di tolla come si dice a Milano spari con sicumera una delle due versioni il 50% se ti è andata bene ti è andata bene ma magari ti è andata male perché magari poi invece la richiesta che hai fatto dell'articolazione era sbagliata e magari poi questa non va poi a come dire a mecciare stavo dicendo ma se uso troppi anglicismi poi mi sgridano non va a coincidere con le parti di altri strumenti che suonano magari la stessa frase in questo senso a me era successo una sola volta di fare una prova a memoria una prova di Rigoletto Rigoletto è una delle mie opere preferite la mia opera preferita dell'ottocento e la conosco molto bene oggi tanti anni fa ero convinto di conoscere molto bene tanto è vero che avendo deciso di fare il concerto a memoria decisi in maniera anche un po' sbruffonesca e saccente di fare la prova a memoria la cosa andò bene fino a metà del primo atto quando poi sbagliai clamorosamente un ingresso e lì mi resi conto che non la conoscevo così bene come mi illudevo di sapere però ecco diciamo che il dirigere la prova a memoria può essere come dire un test per il direttore per verificare se veramente ha studiato bene se veramente ha studiato bene un pezzo se veramente un'opera l'ha digerita se veramente una sinfonia l'ha assimilata così tanto bene appunto da potersi permettere il lusso di dirigerla a memoria in concerto ma soprattutto in prova in questo senso perché vi dico sempre il direttore si vede nelle prove perché ripeto io non sono mai particolarmente colpito da un direttore che dirige a memoria lo fanno in tantissimi l'ho fatto anche io tantissime volte sono sempre però molto colpito da un direttore che prova a memoria e quindi ho visto Celi Bidacchi ho visto Meta ho visto Abbado ho visto Dudamel in tempi più recenti e lì allora lì veramente la mia stima come dire raggiunge vette vette notevoli allora diciamo che la memoria alla fine è un dono ok quindi non è un merito del direttore esattamente come l'orecchio o l'orecchio assoluto se avete visto il video sull'orecchio assoluto se no vi lascio alla fine del video il link è un dono è un dono di natura ci sono direttori come Toscanini che fin da bambino aveva dimostrato di avere una memoria straordinaria ma banalmente andando all'elementare e una poesia gli dava una poesia e lui la leggeva una volta e se la ricordava ma ci sono stati dei casi ancora più straordinari come Mitropulos che era famoso per avere questa memoria fotografica pazzesca che gli consentiva di guardare una volta una pagina di musica e di ricordarsela per sempre abbiato lui però detto questo al netto come dire della dote innata la memoria si esercita e si amplia soprattutto in giovane età evidentemente io ricordo che il primo pezzo che diresti a memoria era a un corso di direzione dell'orchestra era il pezzo finale ed era un pezzo abbastanza semplice era un divertimento di Mozart insomma quindi non era un pezzo né praticamente lungo né praticamente complesso da dirigere né da dirigere a memoria insomma era un pezzo abbastanza basico però io ci tenevo a fare bella figura e quindi lo studiai per mesi 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 e mesi per riuscire a mettere a memoria un pezzo che durava boh forse un quarto d'ora qualcosa del genere insomma quindi è evidente insomma che che la memoria non era ancora esercitata poi col tempo più mi impegnavo nel studiare le cose a memoria e meno tempo impiegavo per cui in questo senso sicuramente la memoria ripeto soprattutto in giovane età si può sicuramente esercitare io poi sono arrivato al ragionevole compromesso di fare il sinfonico quel sacro a memoria quasi sempre non in tutti i casi ma quasi sempre e l'opera e i concerti solistici con lo spartito ma il perché l'opera lo sa chi ha visto la mia serie di video dedicate ai disastri e l'opera perché può succedere di tutto in un'opera lirica sono talmente tante le variabili extra musicali che possono accadere che è pericolosissimo fare un l'opera l'opera a memoria eppure tanti direttori la fanno venite gatti prima venite ma sono messi più avanti ne vedremo anche anche degli altri il concerto solistico se vogliamo è un'altra cosa che spesso vediamo dirigere con la partitura anche da direttori che normalmente dirigono a memoria mi viene in mente meta mi viene in mente celibidache che quando facevano dirigevano un solista lo facevano con lo spartito probabilmente perché perché c'è già come dire il solista che suona a memoria e quindi forse forse questo è veramente un triplo salto senza senza rete sotto farlo fare tutto con la memoria ma anche per un'altra ragione che mentre normalmente è il direttore che come dire stabilisce il tempo stabilisce tutto i ritenuti le corone insomma tutta la parte musicale stabilisce il direttore nel concerto solistico ovviamente il direttore accompagna il solista quindi i tempi vengono stabiliti dal solista le cadenze i ritenuti tutto viene stabilito dal solista ma ovviamente possibilmente in accordo col direttore però in questo senso può darsi benissimo che un direttore conosca molto bene quel concerto può averlo fatto con tanti solisti diversi ma magari ognuno aveva delle richieste particolari di tempo o delle richieste particolari su determinate cadenze o magari faceva una cadenza diversa insomma per cui questa cosa come dire il direttore considerando che poi è anche in secondo piano perché in primo piano c'è il solista spesso e volentieri tende a fare questo genere di esecuzioni con la partitura e non la memoria ma c'è un rapporto tra il dirigere la memoria e la qualità dell'esecuzione nì nel senso di per sé non c'è una causa diretta però diciamo che il non avere la partitura davanti proprio non avere anche fisicamente il leggio consente al direttore di fare la cosa più importante che un direttore può fare durante un concerto cioè avere il contatto visivo con gli orchestrali e questo non solo banalmente per dargli attacchi ma proprio per per diventare un tutt'uno per non essere io da una parte e voi dall'altra per essere tutti insieme a fare a fare la stessa cosa e queste cose generalmente i musicisti le apprezzano molto molto di più che insomma che altre manifestazioni magari molto più esteriori molto più da diciamo così da fumo negli occhi mantenere il contatto visivo è fondamentale poi ci sono casi di direttori come Carian che dirigeva tutto a memoria sempre tutto a memoria ma non aveva alcun contatto visivo cioè lui l'avete visto in tanti video dirigeva quasi sempre con gli occhi chiusi questo soprattutto nella seconda parte della sua carriera e ma lui diceva comunque io non sono uno che dà gli attacchi la parte la devi sapere la proviamo oltretutto tantissime volte per cui io dirigo la musica non devo preoccuparmi che lì entra l'oboe o il tenore lì non sa che tre battuto dopo di entrare non è un mio problema è un lusso che non tutti i direttori possono permettersi però ha un senso Carian tra l'altro che dirigeva appunto sempre a memoria un repertorio oltretutto sterminato negli anni 40 dirigeva anche Wagner a memoria e siccome ai tempi molti direttori artistici non tutti ma molti direttori artistici ritenevano che fosse impossibile dirigere Wagner a memoria per la lunghezza la complessità della musica lo obbligavano ad avere la partitura sull'Eggio e lui sapete cosa faceva la teneva al contrario un po' come in certi casi facevano anche altri direttori cioè di dirigere a memoria ma con lo spartito chiuso c'è questa leggenda metropolitana che dice che quando Toscanini debuttò in Aida in Sud America sostituendo un altro direttore la prima cosa che fece è andò sul podio chiuse la partitura e iniziò questa è una cosa che molti direttori fanno ancora come dire sei qua ma non ho bisogno di te insomma ma che cosa significa per un direttore studiare a memoria ovviamente uno strumentista che esegua a memoria una suonata un pezzo un concerto insomma qualunque brano lo suona a memoria lo deve imparare tutto ovviamente nei minimi nei minimi dettagli e tutte le notte che sono previste dalla sua parte un direttore ni nel senso ci sono diversi strati di memoria e diversi tipi di bluff che un direttore può fare allora il primo stadio più elementare per dirigere una cosa a memoria è quella che io chiamo la memoria metrica cioè sapere che il pezzo ha quello sviluppo che succede quella roba lì dove per succedere quella roba lì si intende che cosa fa la melodia principale che cosa fa il tema principale che cosa sta cantando il cantante le parole la frase cioè detto in altri termini è la stessa memorizzazione che potrebbe fare anche un non musicista che dica conosco a memoria bohème te la posso cantare tutta è probabilmente anche vero quindi è quel tipo di memorizzazione che ovviamente è un tipo di memorizzazione molto blanda evidentemente e se il direttore dirige a memoria in questa maniera è un po' un bluff ok perché ripeto è un'ostentazione di fare una cosa a memoria ma conosce un pezzo a memoria è un'altra è un'altra cosa il secondo step di memorizzazione è quando il direttore conosce non solo ovviamente l'andamento generale e la musica in generale ma conosce bene i punti critici dal punto di vista strettamente elettoriale cioè i cambi di tempo i ritenuti li stringendo e così via e le cadenze sapere con precisione dove dopo la cadenza l'orchestra deve rientrare ecco questo è un passo successivo della memorizzazione soprattutto per quanto riguarda certi ingressi cioè se le trombe in una sinfonia di Beethoven hanno 140 battute d'aspetto e quell'attacco se non sei cari anche diceva problemi loro loro sapranno quando devono entrare insomma se gli dai un attacco di sicuro insomma non si offenderanno ecco il terzo stadio quello vero diciamo così della memorizzazione quando veramente un direttore sa ogni virgola che c'è sua partitura quindi tutte le note quindi tutte le parti di tutti tutte le dinamiche tutte le agogiche tutte le articolazioni tutto di tutto di tutto di tutto e questa è una cosa più rara ecco quando conosci un 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 brano una sinfonia in questa maniera allora puoi forse permetterti di dirigere la prova memoria altrimenti no perché perché devi sapere che a battuta 347 le viole hanno fa diesis ma Masel era uno di quelli che aveva questo tipo di conoscenza della di quello che doveva dirigere oppure era in grado una sinfonia di Beethoven di se gli davi carta e penna di trascrivertela a memoria cioè carta, penna e calamaio le scrive a tutta tanto è vero che ricordo che in uno che in un corso di direzione orchestra è tenuto da Masel tra le prove come dire di ammissione c'era questa roba qui per cui lui ti dava e ti diceva scrivimi il terzo movimento della quarta di Beethoven a memoria e insomma capite insomma che da saper dirigere la quarta di Beethoven a scrivere di proprio pugno a memoria nota per nota tutte le parti della quarta di Beethoven beh capite che è un altro è un altro livello a volte la memoria fa anche degli scherzi ovviamente come tutte le cose umane siamo esseri umani e quindi siamo fallibili a Chung in tempi abbastanza recenti è successo durante un pezzo in cui tra l'altro lui suonava al pianoforte di di perdersi anche se lì probabilmente il vuoto di memoria che ha avuto è stato più sulla parte pianistica che non come dire su quella direttoriale però è successo c'è stato un momento di grande confusione insomma e poi si è scusato è un essere umano e questa cosa può succedere se vedete uno degli ultimi video di Toscanini che dirige la quinta di Beethoven noterete che nell'ultima battuta lui ha un piccolo lapsus cioè si sbaglia su dove gli accordi finali cadono è una sciocchezza ovviamente cioè diamo il giusto peso alle cose una cosa veramente minima e oltretutto l'esecuzione è cambiato nulla perché ovviamente l'orchestra lì è lanciata insomma non è certo perché il direttore sbaglia un certo tipo di scansione che l'orchestra sbaglierà o andrà fuori era comunque veramente una sciocchezza un'inezia a dimostrazione però del fatto che siamo esseri umani quindi un piccolo lapsus un piccolo vuoto di memoria può succedere la differenza tra un lapsus di uno strumentista e di un direttore è che il direttore se ha un lapsus l'orchestra comunque continuerà a suonare perché l'orchestra la parte davanti ce l'ha e quindi può darsi che un direttore in un certo punto magari non si ricordi una cosa ma l'orchestra comunque la suonerà e quindi se non è uno snodo ritmico importante in cui può succedere un problema di verticalità l'orchestra andrà avanti andrà avanti a suonare in questo senso tutti i direttori della vecchia scuola dirigirono a memoria Toscanini De Sabata Votto Nello Santi in tempi più recenti un repertorio soprattutto lirico quindi quello più pericoloso a dirigere a memoria che hanno sempre fatto senza la partitura per ragioni imprescrutabili ci sono anche direttori che non dirigono la memoria per principio Riccardo Muti è uno di questi io non l'ho mai visto dirigere senza la partitura davanti e non credo che sia un problema di riconoscenza della partitura credo che se Traviato o Rigoletto o Nabucco posso farli io a memoria io credo che Riccardo Muti possa farli anche con una mano legata dietro la schiena e gli occhi bendati quindi perché non lo fa non lo so mi sarebbe però mi piacerebbe saperlo ci sono delle gene metropolitane che circolano riguardo a questo aspetto Riccardo Muti ma non ve le riporto perché essendo cose di venticinquesima mano non vorrei dare adito a dicerie e a pettegolezzi un po' gratuiti insomma anche se generalmente da niente non nasce niente quindi può darsi che questo episodio che so io sia successo in fase germinale diciamo così e poi di bocca in bocca la cosa si sia si sia ampliata come spesso succede però insomma per questo non ve lo voglio non ve lo voglio raccontare però se qualcuno conosce la ragione magari detta dal maestro in un'intervista o qualcosa del perché lui non dirige mai in memoria scrivetelo nei commenti altra cosa che potete fare dovete iscrivervi al canale io nel frattempo ringrazio tutti coloro che il canale lo supportano lo seguono e ringrazio in particolare gli abbonati a cui sono veramente molto legato e molto grato ci vediamo al prossimo video vi ho già letto di iscrivervi sì l'ho già letto ma ripetite aiutanti iscrivetevi grazie a tutti grazie a tutti